Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, lavori per rinnovare i binari tramviari a Ponte Matteotti e tra Via dei Redi e Scalo San Lorenzo. Per quel che riguarda le linee tram, la 2 è sostituita da bus lungo tutto il percorso, la 3 viaggia su tram tra stazione Trastevere e Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia, la 19 è su tram tra Centocelle e Porta Maggiore e con navette bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento. Per l'intervento a Ponte Matteotti sono deviate anche 10 linee di bus. Intanto in Prati prosegue l'intervento per la riqualificazione di Via Ottaviano nel tratto tra Piazza Risorgimento e Via Germanico. Sono deviate le linee 19 bus 32, 590, 913, 982 e N3D.